Buongiorno, siamo qui con il professor Marco Mezzadri che ci presenterà il progetto del marchio Qualità. Il nostro marchio è il primo marchio in Italia che certifica la qualità di un docente o di un'istituzione nell'ambito dell'insegnamento dell'italiano come lingua straniera o come lingua 2. Crediamo che un docente o una scuola che fa un percorso formativo professionale verso l'eccellenza, sia da considerare di qualità e quindi debba poter ottenere un marchio che li valorizza. Il nostro sistema di certificazione della qualità segue dei parametri, sono stati formulati a seguito di una linea di ricerca scientifica pluriannale che ho condotto presso il Dipartimento di Scienze del Linguaggio di Ca' Foscari a Venezia. La ricerca è iniziata ormai dieci anni fa, nel 2001 e dal 2006 il progetto ha avuto uno sviluppo pratico con la creazione del marchio Itas Qualità. Il progetto crediamo sia piuttosto ambizioso, ma crediamo anche che sia necessario se si vuole dare dei punti di riferimento per trasformare il sistema dell'insegnamento e dell'apprendimento dell'italiano come lingua straniera, secondo i criteri della qualità. In sostanza il progetto punta a sostenere i docenti e le scuole in questo percorso verso l'eccellenza. Grazie Marco. Grazie a voi e buon lavoro. E buon lavoro anche a te.